Ciao a tutti gli amici di Druento, 10 febbraio, giornata del ricordo delle foibe dell'esodo. Cosa sono le foibe? Le foibe sono un termine geologico che indica delle grandi fratture di cui è cosparso il terreno carsico della Venezia Giulia dell'Istria, nel quale tra la fine di aprile e la metà di giugno del 1945 sono state uccise e buttate un numero imprecisato di persone, ma circa 8.000, secondo le stime più accreditate, tutte italiane, a perpetrare la strage l'esercito di liberazione jugoslavo del maresciallo Tito. Ora, il maresciallo Tito voleva annettere alla nuova Jugoslavia comunista tutte le terre mistilingue, cioè quei territori abitati da sempre da italiani, esloveni e croati. E quindi l'Istria, la Dalmazia, Zara, le isole dell'Alto Adriatico, Trieste, Gorizia, Monfalcone. Per questo, per vedere accettata al tavolo delle trattative di pace un'annessione così importante, aveva bisogno di eliminare la classe dirigente italiana, cioè coloro che potevano difendere l'italianità di quei territori. Di qui le stragi delle foibe, che colpiscono professori universitari, esponenti del vecchio regime fascista, ma anche tutto il comitato di liberazione nazionale della Venezia Giulia, perché rappresenta l'antifascismo, quindi la nuova Italia, e sono gli ostacoli ancora maggiori per l'annessione. Vengono eliminati professori di liceo, maestri elementari, postini, solo perché sono lavoratori statali. E viene eliminato qualcuno che non c'entra nulla con queste categorie, ma per una vendetta privata, un regolamento di conti personale, viene ingurgitato nel turbinio della storia. Ora, il 12 giugno del 1945, i grandi vincitori della guerra, americani, inglesi e sovietici, trovano un accordo su una linea di confine che grossomodo è rimasta ancora la stessa oggi, quella che separa l'Italia dalla Slovenia. È una linea di confine che riconosce due terzi delle aspirazioni espansionistiche di Tito, perché tutta l'Ischera dalmazza gli vengono assegnate, Trieste, Gorizia e Monfalcone restano invece all'Occidente. A quel punto non ha più senso continuare con le stragi, perché nel momento in cui i tre grandi hanno trovato quell'accordo, quell'accordo non si sposta più né da una né dall'altra parte. E quindi finisce quella che non si può definire un genocidio, perché genocidio vuol dire fare sparire un popolo. Questa è una strage etnico-politica. Politica perché lo scopo è quello di garantirsi l'annessione attraverso la decapitazione della classe dirigente italiana ed etnica perché colpisce in quanto tale gli italiani. Finito questo periodo di massacro, comincia però un'altra storia ancora più drammatica, che è quella dell'Esodo. Perché tutti gli italiani che si trovano a vivere in territorio diventata Jugoslavia hanno alle spalle la paura dei 45 giorni di infoibamenti, la realtà di una nazione nella quale solo l'etnia slava conta, l'espulsione da tutte le funzioni e i lavori pubblici, l'idea che da quella parte per chi è italiano non ci sia più prospettiva di futuro. E allora iniziano ad emigrare, vengono in Italia, a decine, poi a centinaia, poi a migliaia, poi a decine di migliaia. Alla fine sono circa 350.000 i profughi Giuliano Dalmati su una popolazione italiana totale che non arrivava a mezzo milione di abitanti. Gli arrivano però in una paese come l'Italia, che è sospettoso, come sempre capita, nei confronti dei migranti, indipendentemente da dove arrivino, e che per giunta ha le difficoltà di una nazione appena uscita dalla guerra. Torino aveva un terzo di case non abitabili perché danneggiate dai bombardamenti. Vengono dispersi in campi profughi, 109, sparsi in tutta la penisola. Alcune sono caserme disattivate come tali, altri sono campi di prigionieri abbandonati. A Roma vengono utilizzate le baracche nelle quali dormivano gli operai addetti alla costruzione dell'euro prima della guerra. E in questa emergenza, dove ci sono delle coperte di lana stese sui fili che separano nelle grandi camerate il box di una famiglia da quello di un'altra, dove ci sono le docce in comune, i bagni in comune, le cucine in comune, in quell'emergenza i profughi Giuliano Dalmati vivono per periodi lunghissimi, a volte anche per anni. A Torino, per esempio, il luogo di prima accoglienza era una serie di baracche costruite in quella che oggi è Corso Trieste, quella che abbiamo conosciuto come Italia 61, un posto umido, sporco, privo di strade asfaltate, privo persino di luce elettrica. Ed erano persone che non scappavano dalla povertà, dall'indigenza. Erano persone che avevano tutto. Avevano la casa, avevano il lavoro, avevano le amicizie, le abitudini, le storie, le tradizioni. Il profugo non è un emigrante che sogna un giorno di tornare a casa per dimostrare che ce l'ha fatto. Un profugo è uno che ha tutto e che deve lasciare tutto. Allora mi rendo conto che riassumere una storia così complessa nel giro di due o tre minuti o quattro è difficile e mi auguro che l'anno prossimo, come già avevamo concordato con il sindaco di Druento, sia possibile fare un'assemblea pubblica in presenza. Per intanto accontentiamoci di queste poche parole con una riflessione però soprattutto. Gli infoibati e gli esuli non sono né di destra né di sinistra, sono una pagina della nostra storia, sono il prezzo estremo che l'Italia ha pagato alla follia di entrare in guerra del 10 giugno 1940. E come tali, infoibati ed esuli Giuliano Dalmati, dobbiamo farli diventare una parte della nostra coscienza collettiva, al di là delle strumentalizzazioni degli uni o delle rimozioni degli altri. Ciao!